Forse ci siamo. A metà marzo sarà trascorso un anno dal duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza a Pordenone, ancora senza un colpevole. C'è un indagato, il commilitone Giosuè Ruotolo, e ci sono dei sospettati, la fidanzata di quest'ultimo, ma pure degli ex sospettati, i coinquilini di Trifone, all'inizio addirittura accusati di essere gli autori materiali del delitto. Riascoltati in procura per ben sei ore, mentre il giorno precedente era toccato alla ex della vittima prima di Teresa, al termine gli inquirenti, pur in uno strettissimo riservo, avrebbero fatto trapelare una prudente soddisfazione. Ricapitolando dunque questa oscura vicenda, si può concludere che Trifone sapeva del profilo social anonimo entrato in contatto con Teresa, ma che, essendosi portato nella tomba il segreto, gli unici che possano probabilmente chiarirlo sono proprio Sergio Romano e Daniele Renna, coloro cioè che avevano vissuto sotto lo stesso tetto della vittima. Grazie Grazie Grazie.